Grazie a Dio Grazie a Dio Luca Chapter 2 From 2 to 20 We are going to read now Dio ci benedica God bless you Io leggo tutto E poi leggo in inglese Capitolo 2 dal verso 8 Luca Chapter 2 from 8 Until 20 Dio ci benedica God bless you In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia a loro gregge E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendè intorno a loro e furono presi da gran timore L'angelo disse loro Non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore E questo vi servirà di segno Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una maggiatruia E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava a Dio e diceva Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo i pastori dicevano tra di loro Andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia E vedutelo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino E tutti quelli che gli udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori Maria serbava in sé tutte queste cose meditandole in cuor suo E i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato loro annunciato Spettiamo la lettura in inglese Look, chapter 2 from 8 we are going to read now Now there were in the some countries separate living out of the field keeping watch over their flock for fine night And behold, an angel of the Lord showed before them and the glory of the Lord shown around them And they were greatly offered Then the angel said to them Do not be offered Behold, I bring you good thing The great joy Which will be all people For there is born in the In the this day In the city of David A savior Who is the Christ our Lord Who is the Christ our Lord And this will be seen Into you You will Fine baby Wroofed in Sweating the clothes Leaning the measure And Suddenly there was when With Then angel was multiplied And heavenly host Praying God And saying Glory to God In highest And on earth Peace Good will To ever man So it was When the angel Had Gone away from them Into the heaven That He Shepard Said To the other Let us Now go To Bethlehem And see The things That Has Come To pass Which the Lord Has Made Now To us And they Came to First of the Fount Mary And Joseph And the baby Laying on the Measure Now they Now Sorry Now when They had Seen them They met Weekly Known The saying With Was told Them Cantering On the Child Concerning On the Child And all Those who Heed To move And all Things Which were To my Then My Supper But Mary Kept The all Things And Pansed Them Into Their Heart Then They Suffered Returned The glory And Praising God For all Things That They Had Unseen As The Voice Told Them Amen Signore Ti Ringraziamo Con Tutti Il Nostro Cuore Ti Preghiamo Ancora Per La Tua Parola Stamattina Siamo Certi Che Tu Parlerai Al Nostro Cuore E Che Tu Opererai Nella Nostra Vida Che La Tua Parola E Spirito E Vita Grazie Nel Nome Di Gesù Stamattina Vogliamo Fare Alcune Considerazioni Su Questa Parola La Prima Considerazione Che Voglio Fare Che Le Cose Semplici Non Piacciono Più A Nessuno E Strano Dirlo Anche All'interno Di Una Chiesa Che Le Cose Semplici Non Piacciono Più A Nessuno Il Messaggio Della Parola Di Dio Stamattina Mette In Evidenza Che Dio Non È Cambiato Noi A Volte Pensiamo Che Dio Deba Operare Attraverso Le Cose Straordinarie Dio Fa Cose Straordinarie Ma Dio Opera Anche Attraverso La Semplicità E Stamattina Voglio Parlarvi Proprio Di Come Dio Può Operare Attraverso La Semplicità Non Dobbiamo Pensare Che Dio Faccia Sempre Cose Straordinarie Anzi Una Delle Cose Straordinarie Di Dio È Operare Nella Semplicità Proprio Perché Dio È Potente La Sua Potenza Si Manifesta Nella Semplicità E Stamattina Noi Parliamo Di Un Episodio Dove Dio Si È Manifestato Con Assoluta Semplicità Il Vangelo È Per Le Persone Semplici Sapete Una Delle Difficoltà Che Il Mondo Ha Per Credere È Proprio Perché Il Vangelo Si Presenta Troppo Semplicemente La Religione Ha Insegnato Che Noi Dobbiamo Fare Qualcosa Per Piacere A Dio Invece Il Vangelo Insegna Che Dio Ha Fatto Qualcosa Per Noi Ma Questo Per L'uomo In Generale È Troppo Semplice È Strano Per Un Uomo Dire Se Credi Sei Salvato E Nella Natura Dell'uomo Che Si Deve Impegnare Deve Fare Qualcosa Per Piacere A Dio La Bibbia Dice Che Noi Possiamo Fare Tutto Quello Che Vogliamo Non Riusciremo Mai A Guadagnare La Grazia Di Dio Noi Possiamo Fare Tutto Quello Che Vogliamo Non Riusciremo Mai A Guadagnare La Grazia Di Dio Questa Mattina Dio Ci Fa Nella Notte In Cui Gesù È Nato Noi Troviamo Anche Un Messaggio Per La Gente Semplice C'erano Dei Pastori Nei Campi Ed Erano Lì A Lavorare Con I Loro Greggie E La Loro Vita Era Fatta Proprio In Questa Maniera Ogni Notte Erano In Questi Campi Ma Questa Era Una Notte Importante Per Loro Perché Questa Notte Era La Notte In Cui Dio Cambiava La Loro Vita E Noi Sappiamo Cosa Vuol Dire Quando Dio Cambia La Nostra Vita Abbiamo Sperimentato Tutti Il Momento In Cui Dio Ha Cambiato La Nostra Vita E Chi In Un Modo Chi In Altro Abbiamo Sentito Il Tocco Di Dio Nella Nostra Vita E Forse Qualcuno E Stato Toccato Di Notte Qualcuno E Stato Toccato Di Giorno Non Importa Il Momento Abbiamo Riconosciuto Che Dio Ha Cambiato La La Prima Cosa Che Vi Voglio Far Notare In Questo Passo La Semplicità Del Messaggio E Mentre Questi Pastori Si Trovano Nei Campi Improvvisamente Appaiono Degli Angeli E Quest'angeli Iniziano A Predicare E Iniziano A Dire Non Abbiate Paura Perché Abbiamo Una Buona Notizia Voglio Dirvi Che Il cielo Buona Buona Notizia Per Noi Il cielo Ha Sempre Una Buona Notizia Per Noi E Quest'angelo Iniziò A Praticare Praticò Ai Pastori A Gente Semplice E Questa Buona Notizia Consisteva Nella Nascita Di Un Salvatore E Nato Un Salvatore Nella Città Di Davide Vogliamo Darvi Questa Buona Notizia E Nato Un Salvatore Molti Di Noi Stanno Aspettando Ancora Oggi Una Buona Notizia Alcuni Aspettano La Soluzione Di Un Problema Alcuni Aspettano Il Risultato Di Qualche Esame Esame Ok Everybody Is Waiting For To Esame Altri Magari Aspettano Qualche Notizia Che Venga Da Lontano Ma L'angelo Ha Detto Ai Pastori E Già Arrivata La Buona Notizia E La Buona Notizia E Che E Nato Un Salvatore Questa Parola Vuol Dire Che Il Salvatore Vive Che Tutte Le Salvatore La Nostra Vita È Cambiata Per Mezzo Di Questo Salvatore La Nostra Vita la possibilità di vedere come nasce un bambino e ho visto ho avuto il privilegio di vedere tutte le volte come è gioioso vedere un bambino che viene alla luce e probabilmente ne vedrò ancora un altro dico probabilmente perché siamo nelle mani di Dio e porta una grande gioia l'allegrezza non ti fa pensare più a nulla ma la gioia che ha portato questa nascita è diversa perché questo non è un bambino come gli altri questa è la salvezza che è nata è la salvezza che Dio ha partorito per noi la nostra vita è cambiata per mezzo di Gesù ditemi voi che allegrezza poteva portare questo bambino ai pastori credo che i pastori avrebbero avuto più motivo di gioire per la nascita di qualche pecora questo bambino non apparteneva neppure a loro non sapevano neppure che c'era una donna che stava per partorire non c'era nessuna relazione di parentela tra di loro loro neppure sapevano che c'era stato un fatto eppure il cielo dirà a questi pastori abbiamo una buona notizia questo mette in evidenza che questo è un bambino diverso dagli altri questo bambino porterà una grande gioia per tutto il popolo e Gesù è venuto per portare gioia al popolo Gesù è venuto per portare gioia alla nostra vita questa è la buona notizia di cui ci dobbiamo rallegrare che è nato un bambino per noi e questo bambino si chiama Cristo Gesù il Signore oggi è nato per voi un salvatore io voglio farvi notare con quanta semplicità viene predicato il Vangelo uno dei rischi maggiori oggi è proprio quello di cercare cose artificiose cose costruite e noi sembra quasi che anche come Chiesa avvertiamo il bisogno di cambiare e sembra quasi che dobbiamo creare altre attività per poter attirare e gli angeli non sentirono questo bisogno e dissero semplicemente è nato un salvatore e questo salvatore è la soluzione della vostra vita e lui porterà gioia nella vostra vita lui porterà la salvezza il perdono dei peccati la liberazione dall'inferno la semplicità del messaggio non cerchiamo cose particolari cerchiamo il messaggio dell'Evangelo la seconda cosa che voglio considerare con voi è che questo messaggio questo messaggio semplice è per persone semplici e a me questo spaventa perché i pastori come ascoltarono subito credettero questo mostra la semplicità di questi uomini il Vangelo opera nelle persone semplici la Bibbia dice che la fede viene dall'udire la parola di Dio la fede non viene dai miracoli la fede non viene dalle grandi operazioni Gesù potrebbe dire nel Vangelo se anche verranno risuscitare non crederanno quanti di voi si ricordano il miracolo della moltiplicazione del pane chi di noi non sarebbe rimasto meravigliato di fronte a quel pane che si moltiplica chi di noi non si sarebbe meravigliato nel vedere questo miracolo se lo avessimo visto con i nostri occhi avremmo detto che il miracolo mentre in quello stesso miracolo il Vangelo dice che indurirono il cuore come si fa a indurire il cuore di fronte a un miracolo così chissà forse pensarono ad altro forse pensarono che i discepoli avevano il pane nascosto forse pensarono a qualche trucco il cuore si indurì di fronte al miracolo la Bibbia dice che la fede non viene dai miracoli la fede viene dall'udire la parola di Dio e questi pastori udirono la parola di Dio e credettero a quel messaggio non cercare cose straordinarie cerca la parola di Dio cerca il messaggio di Dio sentite quello che dissero gli angeli e dice avrete un segno e quando andrete troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia e che segno è? che segno è? che importanza ha questo segno? chissà questi pastori quante volte avranno visto un bambino avvolto in fasce a volte il messaggio dell'Evangelo sembra scontato sembra nulla di particolare sembra troppo semplice ma quella semplicità è in grado di cambiare la vita come cambiò la vita di questi pastori questi pastori non videro il Mar Rosso aprirsi non videro Lazzaro risuscitare non videro gli demoniati essere liberati e videro una mangiatoia e un bambino avvolto in fasce ma la scrittura dice che il loro cuore fu riempito di gioia voglio dirti una cosa molto forte e importante fai bene attenzione a quello che ti dice se non è in grado la semplicità del Vangelo a mettere la gioia nella tua vita nessun miracolo potente potrà farlo sarai forse entusiasmato da qualche miracolo ma non cambierà la tua vita quello che cambia la tua vita è il messaggio della parola di Dio oh vi do una grande notizia è nato il Salvatore andate troverete un bambino forse per te è troppo semplice questo messaggio in questa semplicità c'è la tua salvezza ci fu la salvezza di questi pastori la loro vita in quella notte cambiò la loro vita cambiò in maniera meravigliosa notate che per questa salvezza gli angeli iniziarono a far festa gli angeli gridavano e dicevano gloria a Dio nei Cieli Altissimi e gli angeli iniziavano a benedire Dio per quello che lui stava facendo e notate anche la decisione di questi pastori dopo che gli angeli parlarono al loro cuore non dissero ma chissà cosa volevano dirci ma fu seguito subito da una decisione e dissero tra di loro andiamo a vedere ciò che è avvenuto il messaggio dell'Evangelo non potrà mai operare nella tua vita fino a che non prenderai una decisione molti ascoltano il messaggio dell'Evangelo apprezzano il messaggio dell'Evangelo tornano a casa e dicono che bello il Vangelo ma non prendono mai una decisione continuano a rimanere nei loro campi stanno con le loro pecore continuano a fare la loro vita e la loro vita rimane sempre la stessa stamattina devi dare una risposta al Vangelo andiamo a vedere quello che ci è stato detto il Vangelo merita sempre una risposta non devi rispondere se vedi cose potenti non devi rispondere se vedi cose grosse devi rispondere di fronte a un messaggio semplice che cambia la tua vita e questi dovettero muoversi questi pastori diranno tra di loro andiamo fino a Betlemme voglio dirti che il Vangelo ha un prezzo ha un prezzo il Vangelo ed è importante se vuoi la salvezza che tu sei disposto a pagare questo prezzo andiamo fino a Betlemme e indica l'impegno che questi pastori profusero in quella notte si impegnarono e quando Dio opera nella nostra vita nasce il desiderio di impegnarsi non siamo più morti come eravamo nel mondo ma ora siamo vivi il messaggio ci ha resi vivi notate questi pastori erano morti pur essendo pastori nei campi ma ora si mettono in moto vanno fino a Betlemme la vita che Cristo ci ha dato è una vita viva forte la vita è in noi per mezzo del messaggio del Vangelo andiamo fino a Betlemme stamattina fai quello che Dio ti dice e la tua vita cambierà proverai gioia sarai soddisfatto soddisfatto sarai contento non sentirai più il bisogno di altre cose perché Cristo sarà tutto nella tua vita e la terza cosa che voglio considerare la prima cosa è il Vangelo un messaggio semplice la seconda cosa il Vangelo è per i semplici e la terza cosa che voglio considerare è che il Vangelo produce un risultato semplice la vita di questi pastori era cambiata dice il testo andarono in fretta trovarono Maria, Giuseppe e il bambino adagiato sulla mangiatoia e vedutolo lì cambia la loro vita hanno visto prima avevano ascoltato adesso hanno visto la parola di Dio è arrivata al loro cuore ma ora l'hanno sperimentata e produce un effetto semplice nella loro vita e qual è questo effetto semplice nella loro vita? e vedutolo divulgarono quello che era stato detto di quel bambino la testimonianza e io voglio farti una domanda da quanto tempo non testimoni? non in chiesa quando io ti parlo di testimonianza non ti sto dicendo da quanto tempo non dici che sei evangelico da quanto tempo non dici a chi ti conosce che Dio ha perdonato i tuoi peccati da quanto tempo non dici agli altri che Cristo è nella tua vita? da quanto tempo non dici agli altri che Cristo è nella tua vita? voglio dirti che forse tu più volte avrai detto io sono evangelico vado in una chiesa evangelica ma questo non è il messaggio del cielo il messaggio del cielo è che è nato un salvatore e che questo salvatore ha portato la gioia nel tuo cuore guardate che semplicità questo messaggio che semplicità e che risultato semplice porta e il messaggio non poterono tenerlo per loro lo divulgarono questa parola dice divulgare significa che hanno fatto in modo che la notizia si sapesse dappertutto e noi sappiamo cosa vuol dire divulgare una notizia lo sappiamo molto bene basta sapere una novità che tutti già sanno tutto in breve tempo voglio farvi sorridere io non vado su Facebook ma qualcuno mi ha fatto arrivare che su Facebook si sapeva che mia moglie aspettava un bambino e mia moglie l'ha testimoniato mercoledì credo che su Facebook lo sapevano prima che lo sapessimo e mia moglie per dirvi la capacità di divulgare come c'è e non possiamo fare la stessa cosa per la testimonianza a volte in alcuni ambienti dopo mesi e mesi sanno chi siamo con alcuni passano anni e non si sa che noi apparteniamo a Cristo che abbiamo incontrato il Salvatore e che il nostro cuore è stato riempito di gioia e infine i pastori tornarono indietro la loro vita era cambiata perché tornarono indietro cantando glorificando Dio lodando il Signore con tutto il cuore e all'andata non era stato così e Dio cambia il nostro modo di essere un messaggio semplice che ha stravolto la loro vita noi viviamo in un tempo dove si stanno cercando le cose grosse dove si cerca di fare i colpi di scena di attirare le persone attraverso cose impressionanti il Vangelo non cambia è la semplicità del Vangelo che è in grado di cambiare la nostra vita chiniamo il capo e preghiamo alleluia alleluia alleluia